Fra 20 giorni gli uffici comunali presenteranno la nuova documentazione richiesta per superare il parere negativo della sovrintendenza sulla variante urbanistica del progetto Cabinovia. Trattasi della variante comunale che riguardi i vincoli sui sorvoli per il collegamento tra il Porto Vecchio e Piccina. La sovrintendenza non ha quindi bocciato il progetto in sé ma ha rilevato carenze documentali che riguardano solo la variante comunale sotto il profilo paesaggistico. L'obiettivo è superare l'impasse facendo partire la nuova procedura e inviare la documentazione per ottenere il parere favorevole e quindi procedere con i lavori. L'incontro tra comune e sovrintendenza si è tenuto ieri nella giornata in cui i residenti hanno bloccato con le loro automobili alcuni accessi alle case di via Camporomano per scongiurare il monitoraggio dei tecnici inviati per delle rilevazioni fotografiche per valutare l'installazione dei piloni che dovrebbero comporre il tracciato della Cabinovia. Altri residenti semplicemente non hanno risposto al citofono e aperto i tecnici che procedevano con le rilevazioni. Ma gli uffici comunali sono al lavoro anche per rispondere alla lettera della regione che chiede se il comune abbia già acquisito l'autorizzazione in base alla legge regionale 11 del 2022 in materia di impianti a fune e se la variante urbanistica sia stata approvata. L'intenzione del comune è rispondere punto per punto alle perplessità espresse dalla regione su delle mancanze documentali in vista della conferenza dei servizi.